A proposito, lì eri da Giletti, vero se non sbaglio? Sì. Ecco, questa è una domanda... È un argomento che non tratto perché è un argomento molto scottante. Ma perché non tratta nessuno questo argomento? No, non lo tratto, io ti spiego io. Io non lo tratto perché, prima di tutto, Massimo Giletti è uno dei miei più cari amici. Per quello, sì. Secondo me gli hanno fatto una porcata molto molto grave. Ci sono dei procedimenti penali in atto, civili, perché... E soprattutto dietro c'è una storia che è molto più grande di voi, del sistema, del tipo di ascoltatore medio che può ascoltare questa trasmissione. Qui parliamo di sistemi che hanno cambiato questi paesi e non c'è da scherzare o da vedere. Beh, sicuramente ci hai già risposto, essenzialmente. Eh sì. Eh sì.